Ben tornati a Media & Money, l'unico programma televisivo che ogni settimana vi porta nei segreti dei media, della comunicazione e del marketing. Il nostro sommario si chiama Meaningful Brand, ossia lo studio, la ricerca che connette il benessere delle persone con il successo economico di un marchio. State con noi tra poco in esclusiva i dati elaborati da Avas Media Group. E ancora il saldo trimestre su trimestre, 2015-2014, parliamo dei primi tre mesi dell'anno, purtroppo per la raccolta pubblicitaria segna ancora una flessione del 2,1%, ma qualche timido segnale di ripresa si è visto nel mese di marzo. Tra poco tutti i dati elaborati da Nielsen. Zenit Opti Media pubblica uno studio mondiale che fa il quadro delle 30 concessionari di pubblicità più grandi al mondo. Chi sarà in vetta, ma soprattutto in che posizione sarà la prima concessionaria italiana, non cambiate canale, perché tra poco lo scoprirete. Ma grandi novità in questa puntata, perché oggi avremo la prima, diciamo, pillola di collaborazione con l'Obe, l'osservatorio Branded Entertainment, che ha scelto per voi tre attacchi d'arte, tre brand content da seguire insieme nella seconda parte. Intanto vi presento però il nostro ospite, alla mia destra Guido Surchi di Avas Media Group, di cui è Chief Strategy and Innovation Officer. Ben arrivato! Grazie mille. Grazie mille. Allora Guido, siete un grande gruppo, poi abbiamo anche dei cartelli che possiamo mettere in onda mentre Guido ce lo racconta, però voglio cercare, in modo sintetico, però di raccontare chi siete. Voi siete tante cose, è una grandissima azienda che insieme fornisce che cosa al cliente finale? Allora, noi per i nostri clienti ci occupiamo dell'implementazione delle loro campagne. Noi sostanzialmente facciamo tutto quello che segue la fase più prettamente creativa. Ci occupiamo di strategia, ci occupiamo di analisi del loro consumatore, ci occupiamo di definire quali sono i modi migliori per raggiungere questo consumatore, ci occupiamo di spendere i loro soldi. Difatti il mestiere di Havas Media Group è anche quello di gestire i budget, ottimizzare gli investimenti e far sì che la marca raggiunga i suoi risultati di business, perché alla fine la comunicazione serve a quello, serve a vendere. Certo, allora guardate un po', fa parte del gruppo Havas, che è il sesto gruppo di comunicazione al mondo, è l'agenzia di media e comunicazione del gruppo. Pensate che dal 99 ad oggi ha portato la sua presenza nel mondo da 10 ad oltre 120 mercati, quindi una crescita super esponenziale. È composta dalle agenzie Havas Media e Arena e Havas Sport & Entertainment. In Italia sono impiegate 118 risorse, con una crescita, pensate, questi sono dati 2014, del 31% sul 2013. Ma abbiamo un altro cartello che è ancora più impressionante, che è in qualche modo dai dati di bilancio. Voi non fornite un dato complessivo di fatturato, ma pensate che l'amministrato è stato di 330 milioni di euro. Numeri impressionanti, più 43, più 30 di ricavi, più 70, ma che avete fatto? È stato un anno veramente eroico. Eroico abbiamo, devo dire, non era iniziato così bene, ma poi abbiamo ingranato una fantastica marcia, abbiamo iniziato a crescere, abbiamo iniziato a vincere nuovi clienti, abbiamo trovato una quadra tra team, competenze, offerte al mercato che effettivamente ci ha portato ad essere un'agenzia dove, penso che la cosa più bella che lì non c'è scritto, ogni mese assumiamo qualcuno. Ogni mese arriva qualcuno, nelle ultime settimane ci siano litigati e le ultime scrivanie del tavolo, i prossimi assunti stanno poveretti in piedi, quindi stanno cercando di nuovi uffici. La ricerca del nuovo ufficio è una caratteristica del nostro DNA, ogni anno e mezzo o due dobbiamo trasferirci perché non ci stiamo più nei nostri vecchi uffici. Quando questi sono i problemi di cui si tratta in bordo, devo dire, il clima è proprio bello. Beh, senti, completamente fuori scaletta, ma non posso non chiedertelo, perché stiamo attraversando momenti difficili anche per il mercato del lavoro, sebbene qualche segnale positivo stia arrivando. Nella primissima puntata avevamo parlato di professionalità, oggi le aziende come le vostre che tipo di professionisti cercano? Cavolo, noi siamo un'azienda veramente multiculturale, nel senso che non abbiamo una tipologia di professionisti, abbiamo veramente una quantità di professioni estremamente variegata. Nei nostri uffici si va dalla classica coppia creativa fino a chi si occupa di analytics digitali, a chi ha delle competenze statistiche, a chi chiaramente fa l'account, a chi fa il media planning e buying, e quindi deve conoscere tutto dei palinsesti, a chi si occupa di branded entertainment. Quindi abbiamo veramente un ventaglio di competenze, ma come per effetto di quella che è diventata la comunicazione di questi ultimi anni. La comunicazione di questi ultimi anni ormai non è più una cosa, sono mille cose diverse. Io posso capire che per chi non è del settore, ma molto spesso anche per i clienti, è difficile capire dove finisce il mestiere di un'agenzia, perché effettivamente ormai c'è talmente tanto bisogno di competenze diverse e al tempo stesso di una visione unita di tutte queste competenze che abbiamo dei team in continuo divenire. A seconda dei progetti, prendiamo il creativo, non prendiamo il creativo, prendiamo il planner, prendiamo quello che si occupa del vecchio below the line, ci serve qualcuno dell'analytics, adesso stiamo cercando un esperto di database di grandi dimensioni. Ecco, bravissimo, io fratti lì volevo arrivare. Mentre vediamo delle immagini molto suggestive, le lasciamo nel video. Queste professioni di cui tu stavi parlando, già solo dieci anni fa, non esistevano, comunque non erano così ricercate. Perché sta cambiando il vostro modo di lavorare? Io lo dico sempre, una volta si pianificavano pubblicità, spazi, oggi si pianificano audience. Il fatto che aziende come le vostre possono avere accesso a tutta una serie di dati e metadati molto precisi, che sappiano esattamente cosa Marco Gagliazzi oggi, Marco Gagliazzi inteso come numero tra miliardi di persone, è andato a vedere sul suo telefonino o sul proprio computer, cosa si è andato a cercare, se è cercato una casa, o ha cercato un telefono, o ha cercato un microfono, se è andato in un determinato ristorante, tutto questo vi dà la possibilità di arrivare veramente punto a punto. Questa è forse la vera sfida per voi? Allora, innanzitutto ti correggo subito, non è dieci anni fa, è diciotto mesi fa, stiamo parlando di trend che sono partiti ad una velocità impressionante in mesi. La tecnologia, le normative, il pensiero della comunicazione e del marketing, negli ultimi diciotto mesi ha avuto una rivoluzione decisamente profonda. profonda perché ormai tutto, almeno il nostro modo di vedere, è tutto ruota attorno a data e in content e quanto io riesco a far parlare i dati che possiedo, che tutti possiedono relativamente ai consumatori e i contenuti che ho a disposizione. Nel senso che l'abbondanza del dato e la possibilità di utilizzare delle tecnologie di elaborazione così sofisticate ci permette di conoscere dei dettagli che prima rimanevano annegati in una marea di informazioni sul consumatore che non erano utilizzabili. Io da questi dati posso imparare e una volta che ho imparato devo essere così bravo da far combaciare tutti i contenuti che ho, che possono essere campagne pubblicitarie, informazioni di prodotto, un post fatto da qualche blogger con le persone per le quali quelle informazioni sono rilevanti. Posso far combaciare le giuste creatività. posso far cambiare lo scatto, uno scatto con un uomo, uno scatto con una donna, uno scatto di un uomo con la valigetta del lavoro, uno scatto di qualcuno sulla spiaggia in vacanza. Magari il messaggio della campagna è lo stesso, ma io posso modificare i contenuti e la grafica di questa campagna in funzione di quello che io so di quel consumatore. Non c'è però un po' la paura da parte di molti, io in qualche modo mi ci posso anche mettere dentro così almeno non faccio quello che sta fuori dal gioco, che questo sia un po' fastidioso. Mi è capitato recentemente per implementare per questo programma una telecamera con un certo tipo di microfono che mi serviva per adattarlo ad un'altra marca, eccetera. Tempo zero, sulla mia pagina Facebook sono comparsi migliaia di proposte e di offerte di microfoni da tutto il mondo e questa cosa un po' mi ha disturbato in qualche modo. Allora, è assolutamente vero. Ormai abbiamo un cammino tecnologico che ci permette di fare delle cose che di certo danno fastidio al consumatore. Al tempo stesso ci sono delle altre cose che invece possono essere interessanti per il consumatore. A me quando arrivo a una newsletter che costruisce su quello che ho comprato dandomi delle indicazioni su altre cose che potrebbero interessarmi devo essere sincero lo trovo un servizio utile. In altri casi certi comportamenti possono essere fastidiosi. Quindi sta alle marche, sta ai responsabili della comunicazione, del marketing, trovare quel bilanciamento giusto tra sfruttare la potenza del dato e non andare ad urtare le suscettibilità e le sensibilità. E forse anche quello che si chiama native advertising, cioè riuscire a fare in modo che il contenuto pubblicitario sia inserito in un contenuto che non diventi quasi... Secondo me è giusto che il consumatore sappia che cos'è il contenuto e che cos'è advertising. Però al tempo stesso sì, ci stiamo tutti abituando a delle nuove modalità di comunicazione. Certo, certo. Ed è una sensibilità e un nuovo equilibrio che è una frontiera che continua a cambiare veramente nei mesi. Allora, amici di Media Money, ve l'avevo detto, in esclusiva, almeno per la televisione, questo sicuramente, i nostri amici di Avas ci hanno proposto quello che è un freschissimo studio, una freschissima ricerca che riguarda il Meaningful Brand. Che cos'è? Innanzitutto, primo cartello, poi ne abbiamo dieci con tanto di rullo di tamburi che ci aiuterà a vedere dalla decima posizione alla prima posizione. Mettiamola a pieno schermo in modo che anche i nostri amici a casa lo possano leggere. Dunque, Meaningful Brand significa sostanzialmente uno studio globale che connette il benessere delle persone con il successo di un brand. Che cosa fa questo studio? Misura i benefici che i marchi portano nelle vite dei consumatori. Ed è importante perché sono oltre mille i brand analizzati, 300.000 gli intervistati, 34 paesi monitorali. Allora, guardate un po', dal numero 10 al numero 1, questa è la classifica dei top brand. Al numero 10 abbiamo Conad, poi al numero 9 Dav, numero 8 Procter & Gamble, quindi settore farmaceutico, poi ancora Collistar al settimo posto, poi abbiamo il sesto Findus, posto invece numero 5, tutti molto conosciuti, Kinder Ferrero, andiamo al posto 4, tra poco arriviamo ai numeri 3, Barilla al quarto posto, terzo posto Samsung, quindi tecnologia, mulino bianco Fermi, pensate un po' a quale potrebbe essere, secondo voi, il numero 1? Ebbene, è, vai, Ikea. Ikea al primo posto nella percezione, non so come la definite voi, se è una percezione, tra i risultati, il brand, ma soprattutto il beneficio che questa azienda porta nella vita dei consumatori. Perché? Allora, innanzitutto, l'esempio è semplicissimo, se io devo comprare un mobiletto del bagno, lo compro da Ikea, quando torno a casa, dico a tutti, ho comprato un mobiletto da Ikea, in qualsiasi altro, qualsiasi altro mobiletto del bagno io avessi comprato, anche identico, non l'avessi comprato identico, nessuno lo dice, ho comprato un mobiletto del bagno, che è diverso dal mobiletto del bagno di Ikea, perché è così diverso? È così diverso perché Ikea, attorno ad un prodotto che è ineccepibile in termini di bilanciamento, qualità del prodotto e prezzo, ha vestito questo prodotto di una serie di benefici personali e collettivi che mi rendono quel prodotto diverso. Nonostante Ikea costringa il marito o il fidanzato a montare qualcosa tutto il fine settimana? Ma forse anche quello è parte della soddisfazione, una gran sconciatura quando bisogna farlo, ma poi, cavolo, l'ho montato io, c'è da anche soddisfazione? Eh sì, ho passato come sempre le brutte esperienze, poi quando sono finite resta sempre qualcosa di positivo. Ma quando vado in Ikea, cavolo, mi rendo conto che è un mondo un po' fatato, un po' dove sembra che davvero si prendano cura di me, nel senso che si prendono cura dell'ambiente, si prendono cura dei miei bambini, si prendono cura del mio portafoglio, si prendono cura di quello che mangio, si prendono cura quando vado nei bagni e ci sono tutte le attrezzature per cambiare i bambini, cavolo, è veramente un mondo dove il prodotto è fatto di una serie di valori che vanno al di là rispetto al prodotto, è così per tutte quelle marche della top 10. Poi in quella top 10 ci sono alcune peculiarità, allora, innanzitutto una cosa, Ikea è in quella posizione comunque molto in alto in quasi tutti i paesi bravissimi anche nell'aver reso questo marchio rilevante per i cinesi, per gli indiani, per noi italiani, per gli americani e per i brasiliani. Una peculiarità invece italiana è l'alimentare, abbiamo visto molti prodotti alimentari della grande distribuzione alimentare, forse sembra una considerazione un po' più di folklore che altro, ma per gli italiani l'alimentazione è importante, fa sicuramente casa, abbiamo una sensibilità diversa rispetto a molti altri popoli sull'alimentare, moltissimi brand italiani, effettivamente abbiamo una vicinanza con i brand italiani che va al di là rispetto a quello che è il prodotto, siamo affezionati al nostro pacco blu di pasta barilla. A proposito, su questo c'è una case history che vi facciamo vedere tra poco, però è arrivato il momento dello spot della settimana, lo so che state lì ad aspettare e di capire quali abbiamo scelto per voi con il nostro cosimo vestito, siamo andati anche in questo caso a parlare, in questo caso abbiamo cambiato categoria merceologica, settore automobilistico, lo abbiamo scelto perché è diverso da tutti quelli che vi abbiamo fatto vedere fino ad oggi nelle puntate di Media e Money. Guardatelo, guardatelo molto bene e alla fine si dice in inglese così vi risparmio la traduzione cioè quello che noi cerchiamo è di creare un'emozione di guida. Vai! in inglese Al prossimo episodio Qualcuno dice che la cosa più importante è la potenza del feeling Cioè sostanzialmente per consentire poi quella partenza così veloce Gli ingegneri sistemano anche il battito d'ali È una tecnologia fra l'altro anche di super slow motion incredibile È un buon prodotto, è un bello sport Sì, molto orientale nella percezione di come il lavoro di Cesello La tecnologia sia fatta di un lavoro di infinita attenzione Questo io lo associo molto ad una certa cultura orientale Sicuramente giapponese ma anche di altri operatori asiatici Che stanno venendo alla ribalta in questi ultimi anni Bene, allora ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa Ma poi con il tuo aiuto Guido Dobbiamo anche cercare di capire come Il mondo dei centri media che in qualche modo si prendono sulle spalle Dei budget importanti di grandi aziende E poi distribuiscono sui diversi mezzi la comunicazione È chiaro che sulla base di quello che abbiamo detto fino a qualche istante fa Il perimetro è cambiato Sono cambiate le modalità Si sta spostando molto sul digital, sul mobile Anche se, è stato detto più volte in questa trasmissione I media tradizionali sono ancora importanti Per esempio si è detto che i giornali sono ancora I giornali quotidiani periodici sono ancora molto importanti Quanto meno, dicevo un ospite, per creare un bisogno Per creare una situazione Poi magari quella situazione la si spiega meglio E si raggiunge meglio il target finale con altri strumenti Ne parliamo tra poco Ma soprattutto state con noi Perché abbiamo appunto l'osservatorio Branded Entertainment Insieme al suo direttore generale Che ci racconta i tre progetti di Branded Content Più importanti del mese passato e del mese di aprile State con noi Grazie